buongiorno a tutti per un altro episodio di minecraft domani dovrebbe uscirne un altro ma dai microsoft è senza wifi ma perché fai più scemo e si blocca pure il volume raga vabbè dovrà avere l'analisi comunque tra poco uscirà una nuova serie farò anche il grammy se riesco raga un sacco cioè non può ragare così che cosa è successo bene lasciamo stare non ne voglio proprio sapere tutto un bug provabile no comunque proviamo ad accendere il portale che la lava ci mette due anni signor pigma voi mi lasciate stare vero siamo tutti amici non in quel momento quel caso ragazzo stati bastardi a brucio il portale non guarda è una merda sul set vabbè ma io non so cosa dire ma arrivano fino a qua il pigma conquistì ma io non so cosa dire ma io non so cosa dire mentre io non so cosa dire ma io non so cosa dire così magari nasce qualche animale no sul serio ma io vi ammazzo tutti ma perché è un l'arco a sinistra? mi sa che è un nuovo aggiornamento che fa schifo ecco mi fa confondere una mucca una mucchina che è una mucchina è vero che siamo mucchi sopravedi sopravedi sennò ti ammazzo di brutto stiamo calmi ok no non volevo prendere non ho libro aspetta mi prendo il libro scusa ma non avevate dietro una biblioteca? ooo maia ok ah ok ci sarà qualcuno che scambia qualcosa di bello no? armi? qualcosa? maiali? è uscito un po' siamo trancati ho capito oh no ferma qua e io ho uno di carne macchia di carne macchia forse ho qualcosina di più ma siete bastardi ah cioè io non ne so niente ecco perché poi erano così tanti un bel po' di libri ce li abbiamo e niente siete libri in quel caso che ci sarà un po' di libri che si può essere un po' di libri Ok. Non pietra ucigliana, bravo che fortuna, no, vediamo di fuocchia, vabbè fuoco, ok, puttanate, tutte puttanate. Guarda, non ci posso credere. Regrandiamo un po' qua, perché mi sa che è un po' troppo poco. C'è della lava, della lava rimasta. Ciao. 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 Sono benissimo. l'ho già passato così sperando che cresca erba un cavallo signor cavallo l'apri sei un cavallo molto scemo molto scemo molto scemo molto scemo adesso ho metto qua la lava devo fare una cosa facciamola a fare un infinito di acqua la più semplice che c'è non cadere perfetto porca vera ciao bene almeno non ho bisogno di mangiare ma porca troia ma che c***o ma vaffanculo ma porca puttana dobbiamo mettere un po' di acqua in giro così diventa un mondo acquatico mi domanda se nascono i calamari un blocco di ossidia un blocco di ossidiana pam 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 primo cubo di Ossidiana perfetto raga perfetto tutto bene per oggi finiamo qui domani ci sarà il conflitto nuovo esatto vuole che bastardi fuori a casa mia ci vediamo tutti alla prossima ricordate di lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con altri episodi